Musica Amiche e amici del Soccorso Alpino del Trentino, oggi ci troviamo alla palesia di Nago per la selezione tecnica di ingresso nella nostra organizzazione. La selezione tecnica di ingresso, detta anche V1 all'interno del Soccorso Alpino nel gergo tecnico, è una selezione che comprendono delle prove tecnico-pratiche, ovvero un tiro di arrampicata sportiva, la creazione di un ancoraggio da progressione o da soccorso e una corda doppia, l'allestimento e la discesa in corda doppia nello specifico. Coloro che fanno le selezioni per operatore tecnico devono affrontare un tiro di corda sul quinto grado. La differenza tra le varie qualifiche consiste proprio nell'esecuzione della prova da primo di cordata o da secondo di cordata. Quindi il Soccorritore Alpino e l'operatore tecnico sanitario devono essere in grado di effettuare lo stesso tiro di corda ma da secondi di cordata. Una volta entrati nel Soccorso Alpino del Trentino c'è tutto un percorso formativo da seguire? Certo, per quanto riguarda le qualifiche base che sono il Soccorritore Alpino e l'operatore tecnico sanitario devono affrontare una selezione che è proprio la V1 solo della parte estiva e da seguire devono seguire un percorso formativo che dura all'incirca una decina di giorni e sottoporsi poi a una valutazione finale che dà loro la qualifica finale. L'operatore tecnico invece le cose diventano leggermente più complicate poiché c'è anche una selezione della parte invernale ovvero sono delle prove pratiche sugli sci e sul ghiaccio e delle prove di ricerca in valanga. Una volta effettuata la selezione iniziale anche loro devono seguire un percorso formativo che riguardano più o meno tutti gli ambienti della montagna e nel giro di un anno poi andranno alla valutazione finale che riguarda sia la parte estiva che la parte invernale. Ma perché hai voluto fare le selezioni d'ingresso per il suo corso alpino? Che cosa ti anima? Qual è la tua motivazione principale? Ma io ho un amore per la montagna che non ha limiti, sono sempre a rampicare, a far vie lunghe, a sciare, ghiaccio un po' di tutto però visto anch'io che molte volte ci si trova in situazioni un po' incomode può succedere anche una disgrazia e quindi ci devono essere delle persone pronte, preparate, volonterose di venire a salvarci e quindi spero che tutte le persone qua presenti che fanno richiesta di entrare non lo facciano per portare una divisa ma per fare del bene e per andare a aiutare delle persone che come noi condividono la nostra stessa passione e non andate esattamente come doveva andare quel giorno. Le motivazioni che ti hanno spinto a partecipare alle selezioni tecniche? Sicuramente la voglia di fare un'attività di volontariato che si accordasse con le mie passioni e quindi la voglia di aiutare e allo stesso tempo di poter stare nella natura come piace a me Luca Lektale, dal parquet della palacanestro al parquet della roccia, da dove nasce questa passione? Mi è sempre piaciuto e affascinato il fatto di poter aiutare qualcuno che è in difficoltà questo l'ho sempre avuto come indole il soccorso al pieno ti permette di rimanere a contatto con la montagna e comunque poter anche trasmettere la sicurezza, conoscere bene la sicurezza in primis e trasmetterla ad altri tramite questa organizzazione Allora si può dire che hai fatto canestro anche oggi? Sì, assolutamente Ezio Parisi, vicepresidente del soccorso alpino del Trentino oggi stiamo partecipando alle selezioni tecniche di ingresso un momento molto importante per il soccorso alpino perché è il nostro futuro Certo, un momento importante e qui mettiamo le basi per garantire il turnover fisiologico ovviamente che poi seguirà e porterà avanti il soccorso alpino devo dire che il salto è positivo perché sono più le domande di ingresso di quelle che poi escono e quest'anno abbiamo visto un buon livello e quindi ci fa sperare bene per il proseguo della nostra associazione Cresce sempre di più il numero delle donne? Una bella sorpresa perché comunque il valore aggiunto delle donne, delle ragazze è sempre apprezzato e appunto in questa selezione c'è veramente, c'è stato un numero importante di ragazze che vogliono intraprendere questa attività Sì, è bello vedere così tante ragazze brave, motivate e anche nella mia stazione ci sono tante ragazze facciamo un bel gruppo tutti insieme quindi è bello, è bello che ci siamo anche noi Grazie a tutti!